Gigi Meroni rimane vittima di un incidente in corso Re Umberto. Il mondo del calcio rimane sconvolto dalla notizia. A soli 24 anni scompare quello che ha incarnato l'arte del football. Ai funerali la partecipazione popolare è tale che sembra di rivivere l'incubo di Superga. Gigi Meroni era nato a Como. A 19 anni venne notato dal Genoa ed acquistato. Immediatamente il suo estro è paragonato a quello di Omar Sivori e come l'argentino anche le sue dichiarazioni fuori del campo, sincere fino alla brutalità, provocano scalpore. Il toro lo ingaggiò per la cifra record di 250 milioni per poi proteggerlo gelosamente dalle tante offerte in seguito ricevute. I tifosi ne hanno amato il suo aspetto beat così anomalo nel mondo del calcio. Una storia davvero originale, spezzata troppo presto. Grazie a tutti.